Ciao ragazzi, cosa dovete sapere sull'accomodation in Australia, ovvero come iniziare il vostro percorso e dove stare, dove vivere per il primo periodo e poi per il resto della vostra esperienza in Australia. Moltissimi ragazzi quando arrivano decidono di incominciare la loro esperienza in un ostello o un backpacker dove possono trascorrere la prima settimana intanto che non trovano un'accomodation un po' più stabile. In un ostello in genere dividete la stanza con molte persone, molti ragazzi ed è bello perché potete conoscere tantissima gente di diverse nazionalità ma la vostra privacy ovviamente è molto limitata quindi in genere quella dell'ostello è un'esperienza molto breve e iniziale. Oppure potete rivolgervi a un accommodation che potete trovare tramite la vostra scuola ovvero un residence per studenti. Anche questa è un'accomodation diciamo temporanea, i residence per studenti è un'ottima opzione, è un pochino più costosa e anche qua però avete l'opportunità di conoscere gente da tutto il mondo e potete avere una camera singola o doppia. Una terza opzione a cui potete appoggiarvi quando arrivate in Australia è Airbnb. Diciamo che Airbnb è molto diffuso, è molto comodo, lo potete prenotare direttamente dall'Italia e diciamo è come avere una propria stanza in una casa oppure direttamente una casa tutta per voi per il primo periodo. Possono esserci case abbastanza costose ma case anche più economiche e è un buon modo per iniziare e per capire se vi piace appunto questo quartiere oppure magari volete provarne un altro per la vostra esperienza. E infine diciamo la cosa più comune è condividere un appartamento con altri studenti, con altre persone. In genere è difficile diciamo prenotare questo già dall'Italia a meno che lo facciate tramite un'agenzia, ad esempio tramite noi perché una volta che siete qua è molto più semplice e potete andare a vedere di persona le case e a vedere con i vostri occhi qualsiasi cosa prima di poterla prendere per un periodo più lungo. Se avete bisogno di aiuto per prenotare la vostra accommodation iniziale e per essere guidati in questa scelta contattateci e vi spiegheremo tutto. Vi aspettiamo! Grazie!